Su questo atollo nel Pacifico, gli enti del Nature Conservancy e US Fish and Wildlife Service stanno combattendo una strana battaglia contro le palme da cocco. E non è la prima battaglia combattuta contro qualcosa di non umano su queste isolette che un tempo ospitavano una base militare americana. Nulla di paranormale, semplicemente i ratti che dagli anni 50 infestavano l'isola. E uso il tempo passato perché questa prima battaglia contro i ratti è già stata vinta. Ed è allora che le palme sono diventate un problema. Importate per la coltivazione nel XIX secolo, finché c'erano i topi che le abitavano e se ne cibavano, il loro numero era sotto controllo. Ma ora ce ne sono troppe e soffoca nello sottobosco e le piante indigene. Grazie agli attivisti però le cose vanno meglio e l'Atollo di Palmira è stato designato Hope Spot dalla Blue Mission dell'oceanografa Sylvia Early, ovvero un luogo di particolare diversità di specie con il potenziale per invertire i danni provocati dall'Uomot, con un po' di aiuto.